Siamo con Massimo Mento, il patron del Teca System, siamo alla parte finale, manca dopo questa una partita poi finiamo. È stato un bel campionato, questo che abbiamo disputato qui da palla al centro, quello che ci aspettavamo, quello che volevamo, un campionato senza, non senza troppo agonismo, con il sano agonismo e con le giuste interpretazioni. Con il clima giusto? Con il clima di stesso, ecco, ci fa sempre piacere, noi stiamo giocando anche le ultime partite perché ci fa piacere in questo clima di amicizia, di lealtà. La volta scorsa addirittura ci si è fatto male un calciatore e la squadra avversaria ha allevato proprio un giocatore dei suoi e è uscito per giocare tre contro tre a Parigi, quindi meglio di così... Questa la dice lunga sulla sportività, sul clima. L'attività di questo torneo, di questa organizzazione che a noi piace molto e contiamo di continuare con loro. Quindi non sto a domandarti i progetti? I progetti, se mi ascoltano me, io proseguirei su questa farsa Rigavì perché è una cosa che mi piace, sia a cinque che a otto, è un campionato che mi aggrada. Bene, io ti ringrazio Massimo, buona continuazione di partita, grazie, molto gentile.